Sulla carta è troppo difficile, è una gara che non si può così prevedere, quindi bisogna secondo me provare un po' il tutto per tutto. Abbiamo del tempo con delle gare importanti per testare la squadra e vedere se reggerà il programma. Sono sicura che arriverà. Ma il capitano che dice? Noi siamo nelle mani del nostro condottiero, quindi ci fidiamo certamente di tutti loro e stiamo lavorando per questo. Niente da aggiungere a quello che ha detto Manuel.